Ciao a tutti, sono felice di essere qui su questo palco stasera, io che sono siciliana di sangue, francese di cultura e campana di cuore, sono qui su questo palco come portavoce del Pride perché millito da 5 anni per la dignità e la visibilità delle famiglie del Covaleno, cioè quelle famiglie costituite da genitori gay, lesbiche e trans e dai loro figli, quello che vi voglio dire è ricordare che i gay, le lesbiche e i trans non sono sterili, facciamo dei figli anche noi e li vogliamo crescere alla luce del sole come facciamo da 5 anni, vi voglio dire ancora non scappate dal sud, non ce n'è bisogno, non c'è nessun paradiso altrove, il paradiso è lì dove volete costruirlo, le vostre vite le dovete costruire dove volete e non scappate mai né da voi né da niente, buon Pride a tutti!